L'essere non è esprimibile dall'uomo. Cerchio Marina attraverso Atilio M. vocedellacuiete.vaglianochiocciola.gmail.com Andrea Debo tornare all'argomento che ha caratterizzato i nostri ultimi incontri, riprendendo una questione rimasta insoluta e che in qualche modo affiorava nei vostri discorsi, non già durante la nostra riunione, ma in quella che voi avete fatta tra voi. Voi avete sostenuto che in qualche modo l'essere e il divenire stanno insieme per un fatto che io posso solo un po' vagamente riassumere. E cioè, l'essere e il divenire stanno insieme perché l'uno è essenziale all'altro, ma nel contempo l'uno non esaurisce l'altro, nel senso che il divenire non esaurisce l'essere e l'essere si situa, non già nel divenire, ovviamente, ma in nessun luogo, perché l'essere è soltanto una parola che serve a esprimere ciò che è inesprimibile dall'uomo. Ed infatti è stato detto che l'uomo non può usare la parola per esprimere ciò che è l'essere, perché l'essere non è duale e l'uomo invece nel suo pensiero e nella sua parola è duale. Bene, noi partiremo questa sera da questa affermazione per portarla all'estremo, al fine che voi capiate cosa significa essere e che cosa significa divenire. Voi spesso affermate che l'essere è qualcosa che non si può immaginare perché non è divenire, perché non è nulla che possa essere riassunto nel concetto di divenire. E poiché voi vivete nel divenire, tutto ciò che fuoriesce dal divenire non è immaginabile, è soltanto concettualizzabile, ma noi vi dimostreremo che non è esattamente così. Per incominciare io farò una serie di affermazioni e una entità. Subito dopo farà affermazioni esattamente opposte. La sintesi delle diverse affermazioni sarà fatta da un'altra entità. L'essere è ciò che non muta, l'essere è ciò che permane, l'essere è ciò che non può essere racchiuso se non in se stesso, l'essere è ciò che non può essere spiegato da nient'altro che da se stesso. L'essere è ciò che pur nel divenire non diviene, che pur nell'alterazione delle forme non afforma, che pur nel mutamento delle forme rimane sempre uguale a se stesso.